Ciao a tutti, ciao ragazzi. Allora, ieri abbiamo parlato della Superlega. Abbiamo elencato i dieci principi che A22 ha voluto condividere con il mondo per la formazione di un campionato europeo di calcio. Tradotto la volontà di avere una seconda competizione oltre alla Champions League, all'Europa League, alla Conference League, anzi un secondo ente oltre alla UEFA in grado di far vedere al pubblico, regalare al pubblico delle partite di alto livello e soprattutto regalare ai club quel modo di riuscire un attimino a respirare maggiormente rispetto agli anni bui, abbastanza bui a livello finanziario che sono culminati secondo me con questa sessione invernale dove abbiamo veramente avuto una crepa, una spaccatura definitiva dei club inglesi da una parte e di tutti gli altri club dall'altra, dato che anche in leghe come quella italiana o quella spagnola nelle quali si spendeva comunque tanto denaro, non tantissimo ma comunque non così poco anche nella sessione invernale, e beh quest'anno abbiamo avuto veramente il freno a mano tirato con l'Inghilterra che invece la Premier League ci ha dimostrato la superiorità netta nei confronti di tutte le altre. E infatti oggi leggevo che i tabloidi inglesi non erano proprio felicissimi di questi dieci principi di A22, dall'altra parte mi viene a dire che è ovvio che la Premier League da sola abbia un impatto molto molto elevato, ma se mettiamo insieme tutte le altre leghe a livello europeo di tutti gli altri campionati principali, probabilmente quel valore di Premier League, quel valore economico di Premier League viene abbastanza inglobato all'interno delle altre leghe. E allora mi sono fatto una domanda, dato che ieri parlavamo di 60-80 squadre che andrebbero a partecipare a questa eventuale Superlega, mi sono chiesto ma quali sarebbero i club in grado di partecipare effettivamente a questa competizione? E mi sono domandato quali sono i principali campionati di calcio che potrebbero essere interessati? Ovviamente ci sono i cinque principali che sono Inghilterra, Spagna, Germania, Italia e Francia, ma ipotizziamo un'ipotetica topate e andiamo a vedere anche le altre squadre all'interno del ranking UEFA, quindi utilizziamo il ranking UEFA per fare le squadre convocate nella Super League, lo so che è abbastanza incoerente come cosa ma in questo modo, in questo momento è anche l'unico modo oggettivo che abbiamo di valutare i club secondo un punteggio predefinito. Quindi sono andato sul sito della UEFA, ho guardato le prime otto nazioni classificate all'interno dei coefficienti per nazioni, Inghilterra, Spagna, Germania, Italia, Francia, Paesi Bassi, Portogallo e Belgio, abbiamo la top 8 dei principali campionati che potranno essere ricercati all'interno dei coefficienti per club, iniziando dall'Italia. Abbiamo decretato 80, ipotizziamo 80 e non 60, quindi ipoteticamente, secondo i coefficienti per club della UEFA, Juventus, Roma, Inter, Napoli, Atalanta, Milan e Lazio, ben 7 squadre potrebbero essere protagoniste della Super League, queste potrebbero essere le 7 squadre all'interno dell'Italia, con il coefficiente più alto e quindi interessate ad entrare all'interno della Super Lega. Rimangano fuori Fiorentina e Torino, posizioni 103 e 104, che sono ovviamente squadre comunque di un certo peso, di una certa rilevanza, che in questo momento non sono in grado di poter entrare, perché ovviamente i coefficienti UEFA vanno a basarsi anche sulle ultime stagioni a livello europeo, i Fiorentina e Torino, nelle ultime 1, 2, 3, 4, 5 stagioni, soltanto due volte sono state qualificate in Europa e quindi non hanno un punteggio così elevato. Quindi abbiamo 7 squadre in Italia, però parlavamo, attenzione, di Inghilterra anche, quindi la Premier League, andiamo a selezionare l'Inghilterra e vediamo se l'Italia ne abbiamo 7. Quante ce ne sono invece in Inghilterra? Sono curioso di sapere la vostra risposta, io lo so già, adesso ve lo vado a mostrare. Manchester City, Liverpool, Chelsea, United, Tottenham, Arsenal, West Ham e Leicester. 60-80, anzi, è Wolverhampton e Burley. Attenzione, attenzione perché, io faccio il fermo, io lo so già, però avevo considerato sulle 60 e invece sulle 80 City, Liverpool, Chelsea, United, Tottenham, Arsenal, West Ham, Leicester, Wolverhampton e Burley. 10. Abbiamo metà della Premier League, quindi 7 italiane e 10 inglesi nella top 80 dei club, secondo la UEFA, in questo momento per coefficiente UEFA, ranking UEFA. E siamo già 17, con solamente due leghe interessate. Andiamo a vedere la Spagna, che è un'altra nazione che abbiamo citato in questo video per far riferimento al mercato a ribasso all'interno di questa sessione invernale. Andiamo a vedere che cosa succede, se il sito decide di collaborare insieme a noi oppure no. Ha deciso di non farlo. Diamogli una bella giornata e andiamo a cercare nuovamente Spagna. Eccola qua. Real Madrid, Barcellona, Atletico, Villareal, Siviglia, Valencia, Betis, Real Sociedad. 8, quindi una in più rispetto alla Serie A. Ne abbiamo 10 per l'Inghilterra, 8 per la Spagna e 7 per l'Italia. Rimane fuori ovviamente Granata, Getafe ed Espagnoli, che sono nella top 100, ma successivamente all'ottava posizione. Andiamo a vedere la Germania. Germania, eccoci qua, Maier Monaco, Borussia Dortmund, Illipsia, Francoforte, Leverkusen, Wolfsburg, Borussia Mönchengladbach e basta perché l'Offenheim rimane fuori. Quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, esattamente come il campionato italiano. Abbiamo pareggiato la Germania. Siamo in questo momento al terzo posto a pari merito con i tedeschi. Andiamo a vedere la Francia. Sono curioso anche di vedere la Francia, quante squadre andrà a proporre. Paris, Lione, Rennes, Marsiglia, Lille, Monaco e basta. Sono 6. Quindi in questo momento la Francia è l'ultima classificata con 6 squadre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Confermo. Paesi Bassi. Andiamo a vedere Paesi Bassi. Saranno... Ok, Olanda. Eccoci qua. Ajax, Feyenoord, PSV, Azdeca, Alkmar e basta. Quindi soltanto 4 squadre. E quindi ecco qua che i Paesi Bassi vanno a presentare soltanto 4 squadre. Andiamo a vedere il Portogallo. Il Portogallo lo troviamo ovviamente qui. Porto, Benfica, Sporting e Braga. 4 squadre, esattamente come l'Olanda. Ultima ma non ultima è il Belgio a completare questo topotto che ci regala Club Bruges e Genk. Basta. Soltanto 2 squadre. Quindi nei 10 maggiori campionati, nelle 10 maggiori rappresentanze a livello nazionale abbiamo 10, 18, 25, 32, e 6, 38, e 4, 42, e 4, 46, e 2, 48. Abbiamo 48 club partecipanti a un'ipotetica ovviamente Superlega con un ipotetico criterio di selezione secondo il coefficiente UEFA. Tutti gli altri andrebbero ricercati ovviamente all'interno della Scozia, dell'Austria, della Serbia, della Turchia, della Svizzera e così via fino alle ultime posizioni finché non si andrà a completare un po' il quadro o finché non sarà necessario avere almeno una rappresentante per ogni paese perché poi bisogna vedere quali sarebbero i criteri all'interno della selezione di questi paesi. Quindi ricapitolando, i tifosi in questo momento di Napoli, di Roma, di Lazio che sono un po' le squadre che erano rimaste fuori dalla Superlega nel comunicato dei club fondatori che era stato un po' un casino, ricorderete, che c'erano state tutte quelle problematiche, e alla luce dei nuovi dieci principi che sono stati condivisi ieri. Faccio, rivolgo la domanda appunto a questi tifosi, se stanno guardando il video, proprio perché potevano avere una posizione differente all'epoca e adesso potrebbero invece averla cambiata leggendo i nuovi principi o magari rendendosi conto che effettivamente in questo momento il calcio, così come lo conosciamo, è arrivato a un punto di stallo. Mi piace dire che il calcio oggi puzza di naftalina perché è da troppi anni ormai che devo fare una cosa, è da troppi anni ormai che non cambia niente, che segue agli stessi regolamenti e basta. Quindi la domanda principalmente a loro, sareste interessati a entrare all'interno di una nuova competizione con quei principi, sareste interessati ad entrare a lasciare la UEFA e ad iscrivervi a questa competizione perché difficilmente poi si riuscirebbe a fare tutti e due. Poi ci sono, per dire, altre cose da prendere in considerazione come il Bayern-Monaco, il Bayern-Monaco lo farebbe? Secondo me no, il PSG lo farebbe? Secondo me no, ci sono tante squadre che secondo me non andrebbero ad abbandonare la UEFA, andrebbe a crearsi anche forse una rottura, forse brutta, non bellissima, però è ovvio che quando parli di politica all'interno del mondo dello sport poi vengano fuori un po' di cose che al tifoso dovrebbero interessare poco o niente, però questo è un po' il ragionamento di fondo. Fatemi sapere, vi ho fatto vedere quelli che sarebbero i club ipotetici all'interno della Superlega oggi, ovviamente è soltanto un gioco, perché non abbiamo ancora nessuna informazione di questo tipo. e quindi non abbiamo ancora nessuna informazione di questo tipo.